C'è anche un pezzo di politica lucana nel governissimo di Enrico Letta. Il senatore del Partito Democratico, Filippo Bubbico, ieri sera è stato nominato vice-ministro all'interno. Una delega prestigiosa, certo, la cui unica nota stonata è legata al fatto che essa arrivi quando a sedere al Viminale. C'è un uomo tutt'altro che di sinistra, ovvero Angelino Alfano. Scherzi di una politica che non riesce a ritrovare se stessa né le direzioni giuste, ma di fatto per Bubbico, parlamentare dal 2006, si tratta di un nuovo step del suo percorso in ascesa a livello nazionale. Già sottosegretario allo sviluppo economico durante l'ultimo governo di Romano Prodi, l'architetto di Montescaglioso è poi tornato sulle scene da saggio, componente di quella commissione voluta dal Presidente della Repubblica, Napolitano, per tracciare le priorità del sistema Italia. La nomina di Bubbico, di fatto, ha smontato subito le teorie di coloro che nelle ultime ore vedevano soccomberlo a vantaggio della collega deputata Maria Antezza e dell'ormai ex Presidente della Regione Basilicata Vito De Filippo. In quest'ultimo caso, a far calare le quotazioni, si è aggiunta anche la bufera giudiziaria abbattutasi sul massimo ente lucano, che ha portato il governatore alle dimissioni. Lo scenario che si apre a livello locale, dopo la nomina romana di Bubbico, potrebbe quindi essere quello più accreditato nelle ultime ore. Antezza, futura candidata alla Presidenza lucana, per lasciare spazio a De Filippo tra i banchi di Montecitorio. Si vedrà, intanto il PDL Lucano, nell'esecutivo Letta, resta a mani vuote. Nessun ruolo nemmeno per il veterano viceconte. La collega deputato latronico, però, nessuna rimostranza. Ai microfoni di TRM H24, questa mattina ha rivolto gli auguri a Bubbico, definendolo il vice del suo ministro di riferimento, appunto Alfano. Il mio ministro di riferimento, che è l'onorevole Angelino Alfano, è una presenza importante.